ciao a tutti e bentornati allora il weekend è da poco trascorso oggi siamo a lunedì e ci tocca da lavorare finalmente stanno arrivando i vlog più attesi dell'anno e cioè quelli delle vacanze ovviamente la meta resta misteriosa fino al primo primo che è cinese primo vlog però scusate è l'effetto lunedì quindi dicevamo che la meta resta comunque misteriosa fino all'arrivo del primo vlog per ora abbiamo un mega haul primark pre partenza mare finalmente dice è che è un video dove lei mostra tutte le cose che ha comprato e che porterà in viaggio con lei diciamo lo stretto necessario ecco il primo articolo che ci mostra che poi anche il pezzo più costoso dell'intera carrellata targata primark è rappresentato da un trolley rigido dalle dimensioni generose è di colore bianco con la scritta in nero mickey and friends e con tutte le testoline dei personaggi disney mozzate e disegnate il costo del trolley è di appena 60 euro poi continuiamo con la carrellata dei prodotti acquistati da primark con un set di quattro canovacci in cotone con disegnato dumbo bellissimi e pagati appena 6 euro sono quattro pezzi in quattro fantasie diverse poi a seguire abbiamo delle cuffiette che erano destinate alla sua cerina cioè la signora daniela ma siccome le hanno tenute in casa un bel po ed hanno avuto tutti e tre del magico trio il covid ha deciso che per sicurezza le terranno loro e anzi le regalerà a sua madre che al momento ne è sprovvista e quindi quando ascolta i video dei canali di scolo praticamente rende partecipi tutti e così con le cuffie verrà insonorizzata abbiamo inoltre una penna ispirata ad harry potter di quelle che ospitano diversi colori di inchiostro il tutto a soli 2 euro e 50 e adesso apriamo il discorso accessori con due paia di occhiali da sole molto di tendenza un paio con le lenti di color rosa barra lilla di forma rettangolare e l'altro con le lenti sempre rettangolari nello stesso modello però stavolta di colore giallo che poi io quando ho visto questo secondo paio di occhiali da sole di colore giallo mi ha ricordato molto quel personaggio interpretato da panariello quello che ripeteva sempre si vede il marsupio si vede il marsupio e poi il marsupio non era riferito al vero marsupio ma vabbè avete capito ora continuiamo coi prodotti se no poi vi eccitate troppo abbiamo una scatola con ben 10 pile per 1 euro e 80 sempre utili come pure l'ennesima agenda degli orsetti del cuore con tanto di chiusura a forma di orsetto e lo so cosa state pensando perché pure io lo penso ma passiamo al prossimo articolo un paio di ciabatte mare in gomma color indaco pagate appena 7 euro poi un set di cannucce in metallo che riportano ognuna un personaggio di harry potter tra cui ermione harry ron e drago non lo so assolutamente chi sono immagino siano personaggi della saga ma non è che me ne frega più di tanto comunque nel kit è fornito pure uno scovolino per ripulire le cannucce da eventuali sputacchi bene e adesso che lo sapete possiamo procedere tranquillamente a quello che è il prossimo articolo rappresentato da un regalo che davide ha fatto a chiara in occasione del del loro anniversario di matrimonio ora non fate caloppare troppo la fantasia perché si tratta di un pacco di mascherine chirurgiche tutte tempestate di yellow kitty sono ben 14 pezzi ed hanno il portamaschere incluso e dopo questa pucciosità estrema passiamo a dei completini così composti pantaloni lunghi di colore lilla con tanti piccoli fiorellini bianchi cintura nello stesso tessuto e finta a bottonatura estremamente elasticizzati e il sopra di questo completino è rappresentato da un gilet corto con i bottoncini sul davanti ed è fatto nella stessa stoffa dei pantaloni il completo ricorda molto lo stile anni 80 allora siamo onesti questo completo merita assolutamente il podio e la giacca stile derrick color cappuccino slitta inesorabilmente al secondo posto della categoria acquisti disastrosi il completo è stato acquistato nella taglia l anziché xl perché al momento il negozio ne era sprovvisto non ve ne frega niente lo so per questo passo subito a quello che è il prossimo articolo che è un copricostume di colore lilla che è un colore molto di tendenza con l'accetto sottoseno che ne va a regolare all'ampiezza questo è stato pagato appena 12 euro e non è finita qui perché abbiamo inoltre una maglietta in stile crop top colore rosso rosso fragola con sul davanti paperino e abbiamo trovato anche la felpa color verde tiffany che va a completare la tuta coi pantaloni precedentemente acquistati e mai indossati sempre in verde abbiamo un'altra maglietta in stile crop top della linea mickey and friends e non potevano mancare i pigiami questo di my little pony composto da un mini top giro manica e dei pantaloni lunghi e aderenti in stile in stile leggings oltre a questo abbiamo un altro completo firmato barbie che sono dei pantaloni lunghi rosa con tanti cuori bianchi elastico in vita e fiocco mentre il sopra è rappresentato da una maglietta a mezze maniche nella stessa stoffa dei pantaloni però questa sul davanti riporta un enorme scritta in nero barbie e dai pigiami passiamo ai vestiti questo che vi presentiamo è di colore arancione nella taglia xl pagato appena 16 euro ed è in maglina di cotone ha le spalline sottili ed è confezionato a balze che praticamente rende il modello ampio e confortevoli sempre nei toni del giallo barra arancione abbiamo preso una camicia con la fantasia della classica bandana questa da indossare sia sull'abito arancione di poco fa oppure su dei leggings o comunque anche come giacchetta beh un articolo molto versatile ma abbiamo pensato anche alle serate più fresche perché perché abbiamo preso un giubbotto stile college delle stranger teens non so assolutamente di di chi stiamo parlando quindi non mi chiedete niente è di colore blu con le maniche bianche questo l'abbiamo pagato 40 euro lo so costicchia davide ci avrebbe comprato almeno 40 paia di infradito super cool con quei soldi e poi a quanto pare dalla notifica ricevuta sembra che anche davide abbia fatto un video dove presenta i suoi acquisti pre partenza per le vacanze ora onestamente non l'ho ancora recuperato quel video credo che possibilmente in giornata e quindi nel caso oggi anziché un video ce ne saranno due se riesco a recuperare anche quello di di davide perché sono curiosa di vedere la mole di acquisti che ha fatto il nostro caro uomo alfa e quindi dicevamo che questo mega galattico super fighissimo giubbetto stile college va a concludere la carrellata firmata primark tutti articoli indispensabili per la riuscita di una vacanza perfetta e dice ma e di strofinacci perché e beh perché è così c'è l'agenda perché è l'agenda pure questa perché è così e dice e gli occhi al gialli perché ma non chiedete tutto a me già lo sapete che io per contratto devo dire che è tutta bella roba bene si conclude così il breve riassunto di quello che è stato il video vlog dove chiara ha presentato tutti i suoi acquisti pre partenza e a breve ci sarà anche il video riassunto di quelli che sono stati gli acquisti di davide nel frattempo a me non resta che augurarvi buona continuazione di giornata di darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto e nel frattempo un bacio a tutti da gossip grazie a tutti